Programma di allenamento completo per bruciare grassi, tonificare muscoli e migliorare la salute. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, stendi le braccia lungo il corpo e poggia a terra i palmi delle mani. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominati sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale a terra. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Ci sono tanti ostacoli lungo il cammino. Non permettere a te stesso di essere uno di essi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. Pecci sia utile? Clicca mi piace. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale con tocco alle caviglie. Pronti? Via! Se hai un obiettivo, lavora duramente per raggiungerlo. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Mantieni gli addominali in contrazione per non commettere errori. Se trovi il video interessante, condividilo. Non sforzare il collo. Può aiutarti fissando un punto sul soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, the hundred. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tombelico. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch incrociato a gamba tesa. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Bere due litri di acqua al giorno aiuta a ridurre la ritenzione idrica e favorisce la definizione muscolare. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sollevamento gambe alternate. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non portare le gambe giù troppo velocemente. Controlla il movimento per massimizzare gli effetti. Scarica l'applicazione per un programma completo. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Allenati con costanza. Non è solo una questione estetica, è importante per la salute. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino con apertura delle gambe. Pronti? Via! Se non ce la fai, non aprire le gambe dopo il sollevamento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino pulsato. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, rotazione bacino. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti del bacino semplici. L'ideale è eseguire il workout 3 volte alla settimana. Esegui il movimento lentamente e contrai gli addominali per evitare problemi. Iscriviti al canale per ricevere nuovi video. Fai attenzione a non sollevare le spalle dal pavimento durante l'esercizio. Per aumentare benefici, ripeti l'allenamento più volte. Desideri altri video di questo tipo? Faccelo sapere con un mi piace. 5, 4, 3, 2, 1, stop!